Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 rallentamenti per traffico verso nord tra Firenze Impruneta e Bivio Colla 11 tra Calenzano e Bivio 1 variante. In A11 permane coda per viabilità esterna che non riceve tra Bivio 11 Firenze Nord e Firenze Peretola in direzione del capoluogo. In A11 rallentamenti tra Empoli ed Empoli S tra Ginestra e Firenze Scandici verso Firenze in carreggiato opposta rallentamenti tra Pisa Aeroporto e Bivio di Ramazione Pisa raccordo Pisa Centro per traffico intenso. Siamo al traffico ferroviario ricordiamo che per danni dovuti al maltempo la circolazione sulla Faentina tra Marradi e Faenza rimane sospesa fino al 6 ottobre e attiva un servizio sostitutivo con bus. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città aeroportale di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.